Il decreto scuola è legge. Nella giornata del 19 dicembre, con il voto di fiducia richiesto dal Governo, il Senato ha concluso l'esame del provvedimento, approvandolo senza apportare nessuna modifica rispetto al testo già licenziato dalla Camera, che così a questo punto non dovrà più pronunciarsi. La parte più importante del decreto riguarda il reclutamento del personale docente e prevede in particolare una procedura straordinaria per il reclutamento di 24.000 insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado, procedura riservata ai docenti precari con specifici requisiti di servizio nella scuola statale. Con la stessa procedura sarà possibile anche conseguire l'abilitazione all'insegnamento, ma in tal caso si potrà far valere il servizio nella scuola paritaria. Un'altra disposizione autorizza l'avvio entro il 2020 di un concorso per la copertura di posti per l'insegnamento della religione cattolica. Un apposito articolo prevede la costituzione di nuove graduatorie provinciali da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche, mentre una norma specifica prevede una procedura selettiva riservata per il reclutamento dei DSGA. Altra norma particolarmente attesa è quella con cui dirigenti scolastici e personale ATA vengono esclusi dalla verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro mediante sistemi di rilevazione biometrica. Complessivamente il decreto risolve alcune criticità del sistema di reclutamento, ma lascia piuttosto insoddisfatto il fronte sindacale e del tutto contraria l'opposizione parlamentare. I sindacati lamentano diverse lacune a partire dal mancato avvio di un nuovo ciclo di percorsi abilitanti speciali fino alla mancata soluzione dei problemi dei diplomati magistrale e dei DSGA facenti funzione. Più in generale le organizzazioni sindacali protestano per il mancato rispetto degli accordi sottoscritti il 24 aprile col Presidente Conte e il 1 ottobre con lo stesso Ministro Fioramonti. Protesta che intanto si è già concretizzata nella proclamazione dello Stato di agitazione. L'opposizione parlamentare in occasione del voto di fiducia per il tramite di Mario Pittoni della Lega ha parlato addirittura di un decreto ammazza precari e non salva precari. Su tutta la questione va rilevato che il Ministro non si è pronunciato negli ultimi giorni, anche se nelle ultime ore ha rintuzzato le polemiche sulle sue presunte dimissioni con un laconico commento, io sono qui e sto lavorando. Bene, con questo video noi concludiamo l'anno 2019, ci rivedremo nei primi giorni del 2020, ma intanto ovviamente continuate a seguirci sul nostro portale www.tecnica della scuola, portale nel quale anche in questo periodo di vacanza, noi continueremo a tenervi aggiornati. Per intanto un caro augurio di buone feste a tutti quanti voi da parte della redazione di tecnica della scuola.